Quindi la domanda è, cosa faresti da solo? Mi farei bannare probabilmente Che più che una domanda è una curiosità, non devi fatti bannare E' quello che ho paura Se ti fai bannare non puoi venire qui Ah è questo anche il fatto, è uno delle mie paure più grandi Perché se vengo bannato non posso fare né live con te né con Andrea